Presentazione ufficiale presso il comune di Monte Corvino Rovella per il progetto Longobardi Experience, finanziato dalla regione per 70.000 euro ed incentrato sulla valorizzazione del sito Longobardo Diociano, frazione del comune Picentino. A spiegare le finalità dell'iniziativa che si terrà dal 3 al 5 maggio 2019 l'assessore alla cultura Stefania Quaranta. È stata una scommessa fortemente voluta e vinta, abbiamo rischiato per una cifra abbastanza considerevole, il rischio ce lo siamo preso tutto e abbiamo avuto degli ottimi risultati, appunto 70.000 euro che spalmeremo interamente sul territorio, cercando di coinvolgere quanto più possibile il patrimonio culturale, artistico, archeologico, veicolandolo però anche ai non addetti ai lavori, quindi cercando di assottigliare queste distanze che c'è magari stato nel passato tra mondo accademico e mondo sociale. Quello che voglio sottolineare però è che abbiamo fortemente voluto anche dare continuità ad un progetto che è nato prima di noi nel 2017, proprio perché già in tempi non sospetti in campagna elettorale avevamo voluto sottolineare appunto il fatto che le belle idee e i bei progetti vanno portate avanti, le persone responsabili mature che vanno al di là di quello che è un protagonismo, un mero protagonismo, tenda a valorizzare e a dare continuità anche a idee che magari hanno partorito altri prima di noi e quindi ben vengano queste iniziative, ben venga Longobardi Experience Reloaded seconda edizione che non si fermi al 3, 4 e 5 maggio 2019, ma che sia un appuntamento fisso per le persone del territorio e quindi coinvolgeremo fortemente la frazione Occiano, ma sia un appuntamento fisso anche per gli amanti, per i cultori, per chi vuole fare turismo lento e quindi vuole dedicarsi del tempo e fare un turismo differente che porti attenzione a quello che è il nostro patrimonio.